ciao amico bentornato sapete già cosa significa la parola poltergeist no per chi non lo sapesse la parola poltergeist viene dal tedesco e significa spirito rumoroso secondo molti i poltergeist sarebbero solo frutto dell'immaginazione della mente umana secondo altri le attività poltergeist non sono solo frutto della mente umana ma pura realtà nei filmati di oggi vi porterò alcuni video dove vengono mostrate attività al portalgeist prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche questo per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo nel primo filmato un ragazzo spaventato da alcuni strani fenomeni decide di armarsi di telecamera e riprendere tutto ciò che succede all'inizio si può notare la scrivania del ragazzo con degli oggetti che si muovono senza che nessuno li tocchi lo stesso avviene per i libri sugli scaffali che cadono giù come se qualcuno li avesse toccati il secondo filmato è stato girato in india e qui si può notare una donna mentre sembra che stia cucinando qualcosa la donna si gira per un attimo nello stesso tempo uno dei piatti si sposta da solo in un ristorante un cliente molto spaventato avvisa il direttore di aver visto qualcosa di strano secondo il cliente alcuni oggetti su un tavolo si sarebbero spostati senza che nessuno li toccasse il direttore decide di andare a rivedere le telecamere di sicurezza e questo è ciò che hanno ripreso quelle telecamere nel prossimo filmato si può notare un carrello in un supermercato che viene spinto da una forza invisibile forse lo spirito di un cliente abitudinario che frequentava quel luogo in vita di solito la propria casa è un luogo dove una persona può rilassarsi e stare tranquillo ma da ciò che succede in questa casa non c'è nulla per cui stare tranquilli come si può notare delle immagini alcuni oggetti vengono lanciati da una forza invisibile tutto lascia pensare che i poltergeist non siano solo una suggestione una fantasia della mente umana ma una pura realtà il video finisce qui ragazzi e noi come al solito ci rivediamo alla prossima mi raccomando non mancate ciao 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 ciao